Eccoci arrivati alla seconda parte della nostra trattazione delle pieghe con le analisi delle immagini prese in campagna e lateralmente il loro disegno semplificato. Nel disegno a fianco noi vediamo una successione di anticlinali e sinclinali o antiformi e sinformi qualsivoglia che sono simmetriche con un piano assiale che praticamente è dritto, è verticale. Bene, guardiamo a sinistra, noi vediamo una sinforme, probabilmente una sinclinale con questo piano assiale che è più o meno dritto che divide la piega in due parti e questa è una dimostrazione che in natura ci possono essere anche delle configurazioni abbastanza semplici, però sono piuttosto difficili da vedere. Andiamo a vedere più avanti, infatti quest'altra piega come potete osservare ha il piano assiale inclinato, lo vediamo a sinistra, lo vediamo a destra, probabilmente è un anticlinale con un piano assiale inclinato. Le pieghe rovesciate hanno il piano assiale molto inclinato ed entrambi i fianchi pendono nella stessa direzione, quindi dovrebbero pendere verso sinistra e verso sinistra anche tutti e due i fianchi. Nella figura dovrebbero pendere verso sinistra e verso sinistra. Il disegno non è proprio preciso perché il fianco, questo qua grigio vedete, pende verso sinistra, questo qua in realtà pende ancora verso destra. Se l'avessero disegnato un po' più storto e tendente verso il piano assiale avremmo avuto la perfetta piega rovesciata. Le pieghe coricate invece hanno la caratteristica di avere il piano assiale molto inclinato, praticamente orizzontale. Guardate questa piega, il piano assiale va dal viso di questa ragazza e guarda perfettamente in avanti e come vedete qui abbiamo un anticlinale e una sinclinale o un antiforme e una sinforme immediatamente in sequenza e il piano assiale è perfettamente orizzontale. E questo è il caso di una piega coricata. Ancora vogliamo adesso direttamente in natura. Sinforme perché non sappiamo se al nucleo gli strati sono veramente giovani. È simmetrica perché vedete con un piano la dividiamo in parti uguali. Probabilmente è una sinclinale a meno che non ci sia stato un completo ribaltamento di un anticlinale. Anche in questo caso abbiamo una sinforme o un antiforme coricata perché il piano assiale vedete è suborizzontale ed è simmetrica e divide la piega in due parti uguali. Anche qua abbiamo una sequenza di antiforme e sinformi, antiforme e sinformi, probabilmente anticlinale e sinclinale, anticlinale e sinclinale, che sono però asimmetriche. Vedete, guardate questo fianco è diverso da quest'altro. Questa è una ragazza probabilmente che ci dà però l'idea di quanto sia la dimensione di questa piega. Qui abbiamo invece una classificazione delle pieghe in base alla loro morfologia, la loro forma. Allora nella A abbiamo la isoclinale. L'isoclinale è caratterizzata dai fianchi completamente paralleli. Nella B c'è quella a ventaglio dove vedete che verso l'alto si apre, verso il basso si restringe. A scatola dove vedete che si forma una specie di arco verso l'alto della piega. Poi c'è quella a chevron dove vedete c'è una forma a V rovesciata e quella a cuspide che è la stessa forma un po' più accentuata. Ed eccole a guardare, a guardiamole in natura, le pieghe a chevron, anticlinale e sinclinale o antiforme e sinformi, vedete che verso l'alto si appuntisce. Anche in questo caso guardate la figura di riferimento della persona, guardate le dimensioni di questa piega che è un'antiforme e qui poi c'è l'asinforme e qui che probabilmente sono anticlinale e sinclinale, inclinate asimmetriche con la forma a chevron. Inclinate, vedete il piano di faglia inclinato verso destra, è asimmetrica perché vedete che c'è uno sviluppo diverso dei fianchi e c'è la forma a chevron perché qui verso l'alto dove si chiude la piega c'è una forma appuntita. Questa è un'altra tipologia di associazione di forme a chevron di alcune pieghe, un po' diverse e un po' più ravvicinate. Anche in questo caso abbiamo forme a chevron coricate, quindi antiformi e sinformi in successione, quindi anticlinale e sinclinale in successione coricate une sull'altra. Sono simmetriche però, come potete osservare, con un piano le dividiamo esattamente in due fianchi e hanno la forma a chevron. Nel prossimo capitolo parleremo di case particolari di pieghe.